Per il momento è congelato il decreto che autorizzerebbe il via libera alla realizzazione della centrale di compressione SNAM a Sulmona. Queste le parole del sindaco della città Peligna al termine dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi a Roma per ribadire la contrarietà dei sindaci del centro Abruzzo al progetto di realizzare la centrale di compressione del metanodotto Brindisi Manerbio, proprio a Sulmona. La delegazione di primi cittadini accompagnata dal sottosegretario alla presidenza della giunta regionale d'Abruzzo Mario Mazzocca è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal consigliere politico del presidente del consiglio Gabriele De Giorgi. Nell'incontro, durato più di mezz'ora, è stato esaminato il documento sottoscritto dai sindaci dove si chiede al governo di revocare la delibera del 22 dicembre evidenziando la contraddizione tra la realizzazione della centrale SNAM e l'inserimento di Sulmona, unica città abruzzese, nel programma di Casa Italia sulla prevenzione sismica. La delegazione tornerà a Roma il prossimo 8 gennaio come concordato al termine dell'incontro odierno. Al momento il primo cittadino di Sulmona, Anna Maria Casini, seppur soddisfatta per il segnale positivo ottenuto dal governo e per l'esito dell'incontro, non è intenzionato a ritirare le sue dimissioni.